La mia vita è parata! Allora! Mi faccio il collare! Federico, è un'ora che fai i calzoni! Eh, non ti quasi! No! No! Che cosa che ti cerchi di? Ma stai facendo il più noto? Si! C'è molto affiore! Potete sentire quanto è croccante questa carta? Può sentire? Croccante! Senti! No, no! Croc croc! Allora stasera abbiamo un nuovo pizzaiolo all'infinito! Anzi, è una settimana! Ecco! Ecco! Ok ragazzi, ciao! Buona serata! Ciao a tutti! Ciao! Buona pizza a tutti! Ciao a tutti!